La civiltà comunale italiana nella storiografia internazionale, a cura di Andrea Zorzi, edito da Firenze University Press. Disponibile per l'acquisto o il download gratuito in formato digitale al link in descrizione. Capitolo quarto. La civiltà comunale del Medioevo nella storiografia spagnola. Affinità e divergenze. Di Flossel Sabatè. Ringrazio molto sinceramente gli organizzatori per la fiducia riposta nel proporme di analizzare l'eco della società comunale italiana nella penisola iberica, soprattutto perché è una sfida che implica il compimento di un percorso estremamente suggestivo attraverso diversi secoli. Sicuramente porsi domande riguardo all'influenza della civiltà comunale italiana sulla storiografia iberica, obbliga ad entrare in contatto con gli autori coevi, che trasformarono la vicinanza in una conoscenza che diventò addirittura, per diversi settori, ammirazione e modello di ordinamento sociale. Proprio i cambiamenti posteriori di tipo politico e sociale nei secoli moderni allontaneranno un ricordo storico che non sarà ripreso fino a tempi recenti, con dei criteri più strettamente storiografici. L'investigazione recente ha messo in luce numerosi punti di contatto tra il passato ispanico e quello italiano, sebbene la tradizionale introspezione della storiografia spagnola spieghi perché la struttura interna della società comunale non sia stata il centro di investigazioni specifiche. Parte prima. Il comune italiano, modello e ideale, dal XIII al XVI secolo. Le penisole italica e iberica condividono il Mediterraneo occidentale. La prossimità evidente del mondo classico romano è percepita anche nel periodo carolingio. Secondo quanto scrive Eginardo, quando nell'813 il conte di Empuries attacca la Mallorca islamica ed intercetta otto navi musulmane con 500 prigionieri detenuti in Corsica, provenienti, ci dice sempre Eginardo, da Civitavecchia, città della Toscana, e da Nizza, che si trova nella provincia d'Arbonense. Si percepisce quindi uno stesso arco mediterraneo, esteso senza soluzione di continuità tra Barcellona e Roma. Lo straripamento di interessi della Casa Comitale di Barcellona verso l'Occitania, al nord dei Pirenei, con un'attenzione specifica verso la Provenza, permette di stabilire con naturalità nell'XI secolo un collegamento con le città italiane con cui si condividono gli stessi interessi commerciali. Non è un caso che nel 1114 si radunino tutti intorno al conte di Barcellona per conquistare lo stile Mallorca, in una campagna nella quale i pisani parlano del conte Ramon Berenguer III di Barcellona come dell'eroe catalano, essendo così i primi a parlare di Catalanenses. Si percepisce in questo modo il culmine della progressione che ha avvicinato le contee orientali della penisola iberica fino a formare quello che da Pisa si intende per Catalogna. La prossimità fisica ed economica implica quindi una buona conoscenza dell'Italia settentrionale nella penisola iberica, seppur molto centrata in Catalogna e per estensione alla Corona d'Aragona, formatasi nello stesso XII secolo. Nel secolo successivo l'espansione mediterranea e l'incremento delle attività commerciali della Corona d'Aragona, al riparo degli interessi economici dell'emergente borghesia catalana, moltiplicano i rapporti. Nel 1282, quando il re della Corona d'Aragona fa dubitare tutti, in modo intenzionale, se stia preparando l'esercito per aggredire i musulmani o per prendere il tono siciliano, il cronista Ramon Mutaner riassume l'attesa valutando come si mobilitano davanti alla corte catalano-aragonese, sia a forze del Papa, come del re, come dei comuni. Il cronista mette in evidenza quindi la percezione della singolarità sovrana di ciascuna delle città collocate sotto la denominazione dei comuni. La particolarizzazione ed identificazione delle società comunali è ben chiara. Mentre ci si può riferire a Monferrato e a Milano come a terre di signori e bisogna parlarne come delle terre del rispettivo Marchese e Duca, i reiterati riferimenti a Venezia, Pisa e Genova sono menzioni di comuni, il comune di Pisa, il comune di Venezia e il comune di Genova. Quando si considera una signoria superiore che li corona non si annulla il senso collettivo e semmai si specificherà che i messaggeri arrivati vengono da parte del Duca e del comune di Venezia o del Duca e del comune di Genova. Il comune è l'espressione che implica un senso collettivo che singolarizza le città per la loro forma di governo. Si delinea così un modello specifico che è in realtà uno dei tre modi per organizzare lecitamente il governo degli uomini, secondo ciò che pensa il moralista francescano Francese Eximiense nel XIV secolo, rifacendosi chiaramente alla politica di Aristotele. Senza dubbio tre maniere si ha dei principati. La prima è quando alcun signore ha direttamente per bene della comunità e che il principato sa per il regno. La seconda è quando signore nessun spazio è per bene della comunità e è talo il principato si appena per l'aristocrazia, perché trova lo aristotile. La terca è quando signore ha tutto il pobo e alcune leggi per le temi certe e dentro sta in profi della comunità, e ai tali regiments appena il regimento del poble, ai XIV come se fu in Italia, e a quei tre maniere dei principati sono buoni. Sono tre dunque le maniere accettabili di organizzare politicamente la società, ed una di queste, il regimento del poble, si identifica con un luogo concreto, l'Italia. Il sistema comunale italiano dimostra che la società si può governare attraverso i meccanismi partecipativi urbani. La conoscenza di questa realtà trova un terreno immediatamente fertile nella Corona d'Aragona e molto chiaramente nelle città catalane. Qui una realtà sociale e territoriale basata sulla crescente proiezione regionale delle capitali urbane sta convertendo il potere economico in una pressione politica ed organizzativa che riceve proprio da tutti i punti di vista un involucro giustificativo. Il protagonista delle città è pienamente giustificato dai giuristi romanisti che, a partire dallo ius gentium, definiscono il collettivo urbano come universitas e li riconoscono una piena capacità perché civitas si bi princeps, secondo ciò che si diffonde grazie all'intenso contatto nelle terre ispaniche con le opere di importanti giuristi italiani. La stessa idea è rafforzata dal pensiero religioso che equipara il bene comune e la solidarietà municipale, l'implicazione ecclesiastica e la riflessione teleologica capace di situare la città come corpo mistico nell'ambito del piano divino. Il predominio urbano concorda addirittura con l'orientamento filosofico del realismo imposto nel XIII secolo, in quanto riprende le parole di Aristotele, che definiscono l'essere umano come un animale cittadino, ed anche con l'impulso umanista, che può ricavare da Cicerone l'idea che le città sono ciò che più piace a Dio. Coerentemente, il ceto dirigente urbano avanza verso una distinzione sociale vicina ai nobili, mentre disprezza i gruppi sociali inferiori, ed ancora di più se, come i contadini, non godono nemmeno di una formazione urbana. Da questo punto di vista si può interpretare che la stessa potestà ostentata dal principe deriva, in definitiva, dall'accessione popolare debitamente pattuita. In questa logica, la società comunale italiana, basata sull'organizzazione dei propri cittadini, diventa un modello di organizzazione in cui si mescolano in modo inseparabile la res pubblica, la città-stato, e la società o stato politico ideale. La sua singolarità non sarebbe quindi un'indicazione di eccentricità, bensì l'espressione politica della perfezione sociale inerente alla città, palesando così, come sostiene Francesca Ximien, che le comunità sono totes franques, i ciascuna comunità pogue elegir signoria ai tal com se voglue, sempre in funzione dei propri interessi. La comunità non elegì signoria por amor del regidor, ma se elegì regidor por amor de simatexa. In questo senso, le città italiane diventano un modello perché i loro cittadini sono capaci non solo di scegliere chi li deve governare, ma anche di allontanarlo dal potere se il suo comportamento non si addice agli obiettivi collettivi. Si lo poblus e veu poderos sobre elle deu li dar comiat graciosamente ai xi conferen los florentins e nostre temba al duc de Tarento que havin elegit per signor qua percevren de nos sabe regir. Questo comportamento, così come il reclamare la celebrazione delle corti o parlamento generale, il rivolgersi ad un governante superiore o l'andare dal papa, sono le quattro soluzioni contro il cattivo governante per evitare di ucciderlo. Di fronte alla possibilità di fallimento di queste soluzioni, Ximenis ricorre di nuovo alle città comunali italiane perché, considerando che in quanto Chierico non gli si addice consigliare l'uso della violenza, situa la stessa questione a Pisa. In questo modo può simulare una corrispondenza incrociata tra i pisani e un patriarca, per far capire che la sovranità della stessa città violentata dall'atteggiamento insensibile del governante superiore, specialmente se questo non è scelto e non è signora naturale, giustifica, in ultima analisi, una rivolta armata contro questo. Si deve evidenziare che in tutti i casi la capacità di decisione della collettività è equivalente a quelle dei principi in altri sistemi di governo e per questo, nel parlare delle decisioni sovrane, bisogna specificare che provengono da comunità o princeps. La contemporanea diffusione delle teorie che giustificano, secondo Marsilio da Padova, che il legislatore è il popolo o l'intero corpo dei cittadini o la sua parte prevalente mediante la sua scelta o volontà, o di quelle di giuristi, a cominciare da Bartolo da Sassoferrato, che giustificano la capacità elettiva propria delle corporazioni, permette di affermare che il cammino futuro lo delineano non tanto i principi, quanto le comunità. Per questo motivo si attribuisce ad Eximiense la previsione secondo cui, da qui avanti, noi aurarei né ducs né contes né nobles né grands signors. Anzi, da qui avanti, alla fine del mondo, regnerà per tutto il mondo la giustizia popolare e tutto il mondo, per conseguenza, era partito in comuns, a exì con cui si regisse Florenzia e Roma e Pisa e Sena ed altre città dell'Italia ed Alemagna. Il modello continua ad essere disseminato di pericoli. Seguendo Aristotele, così come la monarchia può degenerare in tirannia o l'aristocrazia in oligarchia, il governo del popolo può degenerare in democrazia. E allora il poble è sconvertex il monarca e tracta d'exercise il poder monarchic nobente alla lei e i sconvertex è un despota. E Eximiense avverte chiaramente che quals'ignorea lo poble si vuole affligire e impobrire e subiugar lo rix, con il conseguente disordine sociale che ne deriva. Per questo motivo la praticabilità del sistema e la prosperità delle città vanno unite ad un corretto governo in mano ad una cerchia borghese colta, istruita e promotrice di attività generatrici di ricchezza, come soprattutto il commercio. Questo avallo ideologico concorda con la dinamica sociale che in Catalogna e con diversi adattamenti nel resto della corona d'Aragona sta affermando una cerchia dirigente, ben salda su delle solide basi economiche sempre poggiate su un atteggiamento investitore rivolto ad acquistare proprietà e ad accapararsi diritti e rendite di ogni tipo. Il comportamento lega le città e i loro dintorni, delineando così delle unità di municipi con le rispettive regioni, uno spazio in cui la produzione agricola si adegua alle necessità di rifornimento e di speculazione delle cerchie urbane, alle quali si vincola anche la popolazione, che li dipende attraverso i censi anfiteutici o i crediti oltre a recarsi al mercato e a utilizzare i servizi del centro urbano. Il territorio si ricopre così di ragioni socio-economiche che coincidono con gli interessi delle rispettive cerche borghesi, che hanno le loro fortune investite nella regione di influenza. Di conseguenza, la capacità di intervento giudiziare sul territorio è basilare per la stessa prosperità del gruppo dirigente. Se non si possono perseguitare coloro che non adempiono gli obblighi economici concreti, la stessa cerchia urbana è in pericolo. Questo succede proprio nel XIV secolo perché la tradizionale frammentazione giurisdizionale si accentua in un paese che si sta convertendo in un mosaico di giurisdizioni invalicabili. Le necessità economiche di un sovrano incapace di stabilire un sistema fiscale globale si possono coprire solamente con i contributi straordinari delle varie classi sociali e con crediti urgenti, per i quali si cedono come garanzia porzioni di territorio con la giurisdizione corrispondente. Di conseguenza, i limiti socio-economici e giurisdizionali non coincidono ed i crimini e le inadempienze degli obblighi non possono essere puniti nelle numerose occasioni in cui i colpevoli si trovano in un'altra giurisdizione. Il diniego dell'assistenza giudiziaria inferente autorizza un intervento armato da parte del collettivo municipale sulla giurisdizione baronale che rifiuta la giustizia. Il potere nomiliare danneggiato si lamenta perché queste mobilizzazioni puntano all'intimidazione nei beni della giurisdizione avversa. Si lamentano decisamente che lo stesso riconoscimento giuridico del municipio giustifichi questa reazione solidale e armata ancora più forte nelle popolazioni rilevanti per ricevere una strutturazione ed un riconoscimento istituzionale specifico come quello sagramental di Barcellona. Con grande capacità di convinzione, tra le lamentele presentate alle corti generali di Catalogna riunite a Perpignan nel 1350, il portavoce dello scavallers de la veguere de barinquinone de valles e procurador de la mayor partida dels dits cavaliers non solo critica gli abusi che nota in questa istituzione di difesa municipale, ma avverte che per semblanza impremente d'ontes si è vengude stottes le comune che vuoi son el lomont. Il comune, indubbiamente italiano, è così mostrato come un'istituzione negativa, frutto degli abusi municipali che vengono governati senza i re e addirittura contro i nobili. Dal punto di vista nobiliare, quindi, bisognerebbe prendere i provvedimenti nel momento iniziale per evitare che la sequenza degli avvenimenti finisca per sfociare in una struttura comunale. La lamentela, però, non può evitare una dinamica socio-economica che sta convertendo il paese in un'autentica rete di entità regionali intorno ai centri urbani. Non c'è da stupirsi, quindi, che nel XV secolo il prestigioso giurista Thomas Meers valuti la capacità propria di ogni città spiegando che nel combinarsi tra loro esse stabiliscono un insieme articolato di tutto il paese. Come glosserà qualche secolo dopo un altro giurista, Maspons, evidentemente dietro a questa impostazione pulsa il modello dei comuni italiani. Le città, e soprattutto Barcellona, lo vedono come un modello gradevole e addirittura coerente con la loro importanza impostasi sulla politica della corona ad Aragona. I magistrati municipali di Barcellona sono stati i principali responsabili del modo in cui si è risolta la successione di Giovanni I nel 1396 e di come si è arrivati ad un lungo interregno alla morte di Re Martino nel 1410 e della pretesa destituzione di Giovanni II nel 1462. L'esercizio del potere nel XV secolo mette in evidenza una larvata e permanente discussione riguardo all'appartenenza della sovranità del paese al monarca o alle classi sociali in quanto rappresentanti della terra. In questa rivendicazione, che coinvolge altri interessi più oligarchici, risalta la posizione dirigente della città di Barcellona. Le diverse impostazioni apportano gli argomenti che alimentano una guerra civile che tra il 1462 e il 1472 dissangua le forze e il futuro della Catalogna. Il governo municipale di Barcellona, con la sua preeminenza nella gestione di questi fatti, pretende di incidere sulla Catalogna in un modo simile a come una città comunale governa la sua regione, assumendo così, come dicono i deputati del paese nel 1466, nel definire Barcellona il cuore dei cuori della Catalogna. È chiaro che la stessa immagine del corpo implica l'esistenza di una testa. Comprensibilmente, i rappresentanti delle classi sociali non optano per vivere senza re, bensì per invocare la capacità di poter scegliere il loro capo. In realtà, le funzioni che le classi sociali guidate dalla città di Barcellona riservano al re prescelto mettono in evidenza la volontà di preservare nell'ambito comunale il potere effettivo e destinare al monarca una posizione formale ed un ruolo come capo militare, ricordando quindi le pratiche svolte nelle città italiane. La rivendicazione di maggiore importanza nel governo politico del paese viene espressa anche dalle città del Regno di Castiglia che si inseriscono nelle tensioni del Regno e soffrono allo stesso tempo una tensione interna crescente intorno ad un'oligarchia che detiene il potere municipale superiore cercando di impermeabilizzarlo rispetto ai settori artigianali e ai commercianti riuniti nei denominati comuni di ogni città. Anche l'argomentazione ideologica trova il modello nei comuni italiani basandosi sul rinnovamento rinascimentale del XV secolo. Umanesimo e comune si mescolano nel referente ideologico partendo dall'amministrazione per l'umanesimo civico e l'orgoglio patriottico delle signorie. Il cronista Alfonso Palencia approfitta di una prima tappa a Roma tra il 1450 e il 1453 per compiere diversi viaggi e soggiorni a Firenze dove partecipa ai gruppi culturali umanisti e prova una grande ammirazione per la capitale dell'Arno. Il comportamento civico dei fiorentini può diventare un riferimento in molti altri luoghi nel dimostrare che la convinzione delle idee condivise può essere più forte delle armi come testimoniano i cittadini di Firenze. Con la sola, la gravedà del suo regimento no en ciado a questa pesos de armas. Han vencido muchas veces a crueles tiranos por ende assente me que los triunfos buscare no solamente devan tener en precio las armas ma deben posare la goodezza de los sentidos e la dottrina segundo esto ci ciudadanos fazen. Assumendo il modello italiano e addentrandosi nella conoscenza non solo delle idee ma anche dei paesi e delle terre dell'Italia comunale Palencia non smette di pensare alle problematiche contemporanee esistenti in Castiglia nella battaglia più dialettica che fisica che immagina tra i cani e i lupi non è un caso che i primi siano spagnoli ed i secondi italiani nel tradado della perfezione del triunfo militar crea il personaggio di un cavaliere castigliano chiamato Esercizio che percorre le città italiane alla ricerca delle esperienze e della discrezione che non trova nel suo paese potendo constatare così i valori civici dei quali avrebbe bisogno la Spagna e soprattutto la Castiglia e che sono propri delle terre toscane partendo dal referente italiano il cronista si addentra nella politica castigliana per consigliare sulla necessità che il buon governante sia prudente ed eviti la superbia con cui potrebbe irritare i propri concittadini soprattutto quando un'oligarchia di buoni governanti sembra più adatta che i gruppi popolari così la virtù civica spinge la capacità di ogni città cosa che si traduce nell'incremento dell'autonomia municipale in capitali come Siviglia le posizioni di Palencia però si concretizzano nella pratica sia per mettere in guardia dagli eccessi del popolo sia per segnalare la superbia delle oligarchie dominanti il pericolo che Palencia ha individuato più chiaramente nei comuni italiani è l'eccesso di superbia dei governanti che può squilibrare facilmente la città sia incitando la reazione dei città inferiori sia intraprendendo obiettivi eccessivi è la critica che egli rivolge ai dirigenti municipali di Barcellona che porteranno il paese alla rovina come conseguenza della guerra che muovono contro il re del 1462 frutto in realtà del fatto che questi borghesi illam suam inter omnes orum secularum prudentiorres summen consolis arrogantiam stolidus sostentaront divulgante simpropenter adque impie quodsideus consiglio egheret nusquam peret tremquam barchinoa id posset avere a Siviglia invece Palencia avverte degli eccessi popolari allo scopio del 1463 della rivolta capreggiata dalla Comunia Ispalense sinonimo del comun o comunità promossa dai giurati della città che dalla metà del secolo esercitavano un controllo sempre più oppositore verso il consiglio di giurati che deteneva il potere municipale superiore in una lagherchia chiusa alimentando così la tensione reciproca scoppiata nel 1463 lo stesso umanesimo orgoglioso dell'organizzazione cittadina pulsa nella formulazione della città ideale e redatta tra il 1454 e il 1455 da Rodrigo Sanchez de Revalo chiaramente complice di un umanesimo conosciuto dallo stesso autore proprio a Roma e che gli permette di parlare della città ideale in linea con le opere di Leonardo Bruni e di Leon Battista Alberti contemporaneamente si sta estendendo in Castiglia un discorso intellettuale che rivalorizza il ruolo del cittadino nella vita e nelle decisioni pubbliche del mondo urbano dichiara rivendicazione umanista come si può notare in figure come Alfonso del Madrigale del Tosado Pedro Martínez de Osma Diego de Desa o Fernando de Roa quest'ultimo attribuisce chiaramente il potere alla sovranità popolare e non a quella territoriale o ad un monarca che d'altra parte deve essere concepito non in maniera vitalizia bensì in funzione della volontà dei sudditi sia le tensioni sia i riferimenti ideologici si addentrano nel XVI secolo soprattutto perché il regno di Ferdinando il Cattolico termina lasciando molti problemi interni da risolvere così si spiega che ancora durante gli anni venti dello stesso secolo le rivolte in Castiglia e le Germanies nell'antica Corona d'Aragona in cui risalta Valenza promuovono delle riforme municipaliste di stile comunale italiano in maniera esplicita a Valenza nel rivendicare un governo dotato di una sufficiente autonomia municipale che non abbia bisogno di interventi reggi superiori il notaio Michele Garcia afferma che Valencia avvia de ser comunia ex con Venezia non è un paragone sorto dall'ambito intellettuale lo stesso autore nello spiegare come era cominciata la Germania dice che il popolo di Valenza si organizza come a Venezia a livello popolare quindi agli inizi del XVI secolo Venezia rappresenta il modello da seguire per ottenere un governo rappresentativo di tutto il popolo nello stesso senso uno dei padri della rivolta il lanaiolo Joan Lorenc manifesta l'ideale di giungere ad un futuro in cui c'è un filo conduttore diretto con Francesca Eximenis che a Valenza godeva di una grande fama sin dal XIV secolo ed era addirittura aumentata grazie ad un'edizione del Dozzè della Crestia del 1484 venendo assunto come un chiaro ideale municipalista di permanente consultazione un esemplare di quest'opera era incatenato nella sala del governo locale di Valenza in questo modo nella corona d'Aragona il grande peso di Eximenis come base ideologica della rivolta ha garantito l'approvlungata e convinta evocazione dei comuni italiani in questi momenti dell'inizio del regno di Carlo I un'eredità politica economica e sociale appesantita dalle difficoltà di convivenza tra i sistemi locali e dai contrasti nelle aspirazioni di differenti gruppi sociali garantisce la stessa scintilla di tensione le città castigliane la pretesa di avanzare verso una dinamica pattizia con la monarchia soprattutto da posizioni municipali viene rivendicata chiaramente dall'immagine dei comuni italiani il marchese di Villena accuse rivoltosi di Toledo di voler attraer a quella città alla libertà della maniera che lo resta nella città di Genova e otras in Italia si tratta di un riferimento abituale e ripetuto come afferma ad esempio anche Antonio de Guevara nell'evidenziare che le città in cui triunfa la rivolta resta che daranno esenta i libertà come lo sono Venezia Genova Florencia Siena e Luca di maniera che non aslamene le città sino signorias e che non haia enelles regidores sino consules allo stesso modo altri autori contemporanei come Alfonso de Uloa o Damian de Goese e gli stessi protagonisti dei fatti sono anche coscienti che nella rivolta comunale le città sublevate contemplavano trasformare sem pequeñas repubblicas autonomas segun il modellos della ciudades italianas parlando di comune dunque si intende un modello italiano che viene associato ai termini di libertà e di indipendenza municipale senza menzionare però che l'invocazione popolare comporta in realtà la consegna del governo alle corrispondenti oligarchie locali o permette comunque di ampliarne il raggio d'azione nello stesso periodo questa immagine è condivisa in altri luoghi d'Europa ed anche se rifugio dalla realtà vissuta dell'Italia dell'epoca riflette comunque una certa conoscenza delle terre italiane oltre agli scrittori moralisti che nel basso medioevo ispanico hanno teorizzato una società ideale hanno lasciato la loro impronta anche i racconti e le descrizioni con cui i iconisti dell'epoca hanno avvicinato la realtà della penisola italica alla penisola iberica l'idealizzazione che è giunta fino al XVI secolo si base in gran parte sulle immagini divulgate allora ed in precedenza parte seconda conoscenza del comune italiano XIII XVI secolo oltre all'immagine dei comuni come un determinato modello sociale c'è una realtà un'esperienza di vita concreta nel nord della penisola italiana in modo significativo il prolungamento dell'innovazione del sistema comunale come modello di organizzazione sociale non comporta un identico grado di conoscenza della realtà vissuta nelle zone da cui proviene il modello è necessario quindi esaminare i contenuti di quella realtà conosciuti nella penisola iberica così come le vie attraverso le quali essi arrivano nel XIII secolo le cronache di Castiglia si riferiscono al nord d'Italia nel riportare rapporti diplomatici con il marchese di Monferrato o con il conte di Ventimiglia oltre ad Otros Lombardos soprattutto in seguito alla candidatura di Alfonso X di Castiglia all'impero formulata nel 1256 la cronaca di questo re non entra nel convulso scenario italiano e non menziona i ghibellini di Pisa che promuovono la candidatura e si limita a riferire che l'ost della Lombardia le avviene inviato muchas veces su Smadnaderos sobre esto lo stesso cronista spiega che non può aggiungere nient'altro perché persino quando il re pretende di andare all'imperio il narratore si limita a parlare de los reinos de Castiglia e de León perché lo che lo che fizzó él la cosa come passaron dove fu el describidor non la suppo ni la puso a chi contemporaneamente la maggior vicinanza commerciale e politica nella corona d'Aragona facilita i citati riferimenti dei cronisti catalani ai comunes attribuendogli uno spazio concreto in Italia differenziato dalle terre pontifice e dai domini sotto governi monarchici agli inizi del penultimo decennio del XIII secolo l'incorporazione della Sicilia e soprattutto la confusione internazionale che ne deriva posa lo sguardo verso la globalità del contesto mediterraneo cosa che accento i riferimenti ai comunes subito dopo la campagna di Sicilia si completa nel 1296 con il riconoscimento papale a favore del sovrano della corona d'Aragona e del nuovo ed artificiale regno di Corsica e Sardegna e soprattutto con un orientamento economico imperniato principalmente sul commercio con il Mediterraneo orientale lo scenario sottolinea e promuove un'intensa relazione con le repubbliche commerciali italiane risaltando in questo momento Pisa Venezia e soprattutto Genova con le quali il rapporto è di collaborazione nel XII secolo di accordi con diffidenza nel XIII secolo e di scontro aperto di guerra di corsa nel XIV I giornisti catalani dell'epoca raccontano questo rapporto anche se centrato principalmente sulla relazione diplomatica con il monarca catalano argonese riflettendo le diverse relazioni delle tre repubbliche marinare piccane l'attenzione rivolta a Genova a causa della guerra del XIV secolo le prime tappe delle quali già tratta Ramon Mutaner e a cui in seguito la cronica di Pietro il cerimonioso dedica interamente un lungo capitolo con tutte le implicazioni con altre repubbliche marinare come la Venezia e la Pisana l'obiettivo delle narrazioni è la corona d'Aragona e si entra ben poco all'interno dei comunes persino il passaggio riferito ai monarchi è presentato in modo scarno il trattamento dato a Giacomo II durante il suo viaggio a Roma nel 1297 si rassume dicendo che lì forfetta molta d'onor è Genova e è in Pisa ad ogni modo nel descrivere le varie controversie nate con Genova si includono diversi protagonisti fatto che permette un certo avvicinamento alle famiglie genovesi e alla loro attività così accade per esempio nella descrizione dell'attività militare di Antonio Boccanegra l'opus fort om de Genova contro il quale Ramon Muntaner deve ideare una strategia affinché i suoi almogavari possano sconfiggiolo e farlo a pezzi in seguito con la guerra intorno alla Sardegna si ripetono le imprese militari di cui si rese protagonisti personaggi genovesi di rilievo come Fabiano Rosso Doria la posizione dello stesso cronista Ramon Muntaner sul fronte di Gallipoli agli inizi del XIV secolo gli offre un posto ideale per conoscere il comportamento commerciale dei genovesi infatti dedica un capitolo intero alla sua cronica alla descrizione del funzionamento diplomatico militare e commerciale degli Zaccaria nel Mediterraneo orientale a partire dal comportamento del Prohomme de Genovese tu disegno Zaccaria nel succedere nel mestiere a suo zio Benedetto a capo di un Lenier Armat de Vuitanta Reims Armata Pla e facendo affidamento sulla sua compagnia che erano entro 50 persone Stozoomenos Bons ed Estres questi associati con gli Almogavari nel 1307 assaltarono il castello di Focea nel quale Infinitat Foque si guagna guadagni che si servirono al Genovese per stabilizzare la sua compagnia e impiantare una base nell'isola di Tassos dalla quale poter negoziare con le altre potenze della zona in questo senso lo stabilirsi degli Almogavari nella penisola ellenica permette di entrare in stretto contatto con personaggi venuti dall'Italia e di conoscere in questo modo il loro contesto sociale di provenienza è il caso evidente del predominio dei veronesi ad Atene spiegato da Ramon Muntaner che comincia ritraendo la pratica sociale dei baroni della città italiana è il signor de Verona che è buona citata in Lombardia ha tre fili e la un coelos maior è la heretà di tutta quanta via e a quel qui venia pres è la rea ab 30 cavalers e ab 30 fils de cavalers e lo trames alla Morea al duc d'Atene e quel qui era duc d'Atene pare da quest duc de Chiara vos parlerebbe lo molt voltantosamente e dona lì molt del seu el feu gran ric home e li dona a muller ab grana ricchea e fu molt savi cavalier e bo e ac dos fils e dues filles ed esa muller e con e con i franes saperne che acci ben lianava mister bonifaci chi era lo menor adicca son far lo maior che la voglia andare la morea a son germà e lo frane maior plaghe aiudarli il coche poche e mister bonifaci non aveva masché un castello che son pare lì ex le ex att e aquel venne per coche mi sa persa la narrazione continua spiegando il successo di bonifacio da verona ad atene dove diventa procuratore del ducato oltre ad ottenere altri benefici che gli permettono di presentarsi come mister bonifaci de verona signor della terca parte del agropont i racconti sulla relazione reciproca possono anche riflettere facilmente le istituzioni delle società comunali nel 1324 l'accessione alla corona catalano-orgonese dei domini pisani in sardegna mantenendo solamente cagliari come feudo comporta che il giurare in totes le forze che te lo comune è in l'illa di sardegna e che in lo castel de caler ancienne de pisa per lo comune la qualcosa implica che una delegazione di rappresentanti anassena pisa per ebre le dito mentage dell'ancienne de lo comune denotando così la posizione di superiorità di questi anziani nella struttura del potere a pisa inoltre l'attenzione per i propri interessi del casato barcellonese sia dalla corona aragonese che dalla siciliana spinge a penetrare nel è in questo modo che ramon muntanera apporta dati sulla divisione tra guelfi e ghibellini a genova che scoppia agli inizi degli anni venti del quattordicesimo secolo quando i premi ottengono il potere della città e i rivali partono per savona dove famiglie come i doria e gli spinola ricevono il supporto del re federico secondo di sicilia verità è che il signor re di sicilia ha si con aquel c qui è la parte ghibellina ha aiutato la casa di doria e di spindola e le altre gran casane che rende genova e andare in assaona contro la parte guelfa qui è roma e la città di genova a si che certa cosa è che Deus e l'aiuda il signor re di sicilia lo ha sostenuto il cronista considera sleali i genovesi riuniti a savona perché non contraccambiano i soldi e le navi offerte dal siciliano bensì si allearono con il comune di pisa contro gli aragonesi in sardegna con gaspar redoria come ammiraglio di pisa l'eco di alcuni fatti d'armi mediterranei arriva in Castiglia specialmente quando nel quindicesimo secolo se ne rende protagonista un sovrano che ha allo stesso tempo interessi dinastici familiari in Castiglia così come si conferma dopo l'arrivo dei Trastamara al trono aragonese nel 1412 la sconfitta di alfonso il magnanimo a ponza nel 1453 che comporta l'imprigionamento del re aragonese insieme a suo fratello giovanni re di navarra all'altro fratello enrico e ad un gruppo di nobili della corona d'arragona navara castiglia sicilia napoli e sardegna richiama l'attenzione di cronache castigliane come la raccolta di lope barrientos e ancora di più quando l'episodio è l'elemento scatenante l'anno seguente di una rivolta a genova contro il duca di milano il quale vi deteneva il potere supremo a causa della facilità con nazionale e quando era di castiglia giovanni secondo le veniron nuovas dei fatti il suo cronista fernan perez de guzman le raccoglie in generale i cronistici raccano il dato che riguarda il proprio regno e di conseguenza i riferimenti italiani vengono raccolti in maniera indiretta nella lotta di fazioni in castiglia alvaro de stugniga si sposa con sua nipote grazie a una dispensa concessa da Pio II cosa che permette alla cronica anonima di Enrique IV sia di commentare alla brama del papa per i soldi sia di avvicinarsi alle sue origini familiari include così alcuni commenti su Siena e la società nella quale famiglie di cittadini possono dare papi alla chiesa perché Silvio Nea Piccolomini era nascido e la Sibdad di Siena e De Onestos Padres e Sibdad Anos L'aumento dei rapporti che comporta sia una presenza castigliana nel mediterraneo sia la crescente presenza di banchieri commercianti ed altri uomini d'affari italiani nella penisola iberica implica evidentemente un contatto permanente ed un interscambio di informazioni attraverso dei corrispondenti che realizzano delle relazioni non c'è da stupirsi quindi se le notizie dell'Italia aumentano nel XV secolo la conoscenza si riflette anche nelle cronache castigliane che in via eccezionale raccolgono notizie che destano l'attenzione come la morte del papa paolo secondo che avrebbe avuto una morte ignominosa in accordo con la mancanza di virtù della sua vita in questo contesto si raccolgono anche informazioni sul nord sforza nel 1466 raccontato dettagliatamente da Diego de Valera nella sua cronica del regno di Enrico IV di Castiglia così come gli è giunto una cospirazione di tre persone delle quali scappa proprio colui che aveva conficcato la daga nel corpo del duca senza che si sappia il motivo personale di questa uccisione ed i provvedimenti della duchessa per proteggersi con i figli e per limitare le armi nella città evidenziando che fu la virtù della duchessa che todas la scorsa sosegò in tiempio di tan dura e grave avversidad racconta anche che gran varietà da via de pensamentos nel senato di venezia riguardo al comportamento del capitano de los venezianos che aveva lasciato perdere il negro ponte con tutte le conseguenze che ciò aveva comportato per la presenza veneziana nel mediterraneo orientale in modo simile la proiezione di luigi undicesimo di francia sull'italia merita un capitolo nella cronaca anonima di enrico iv di castiglia che lo presenza come un elemento destabilizzatore il re luiz del franca come fu ambitioso provvedor della guerra sempre procurava novedades e come gli a ovesse posto discordia entre gli grandi d'Inglaterra dopo il nascimento di suo figlio comien di fare allianzze e nuove amistà in italia e pone differenza entre i principi e pueblos della narrazione continua spiegando che con la sua connivenza del paolo ii che attira a Napoli il re francese include nella società che conte Galeazzo Maria Sforza di Milano presenta permanentemente dal cronista tra i governi collettivi e quelli personalizzati in tutto il gioco strategico cita il referente di Napoli il duca Galeazzo Maria Sforza o il papa Paolo II però quando si riferisce a Venezia Genova fine Firenze parla dello Sveneschianos lo Ginoveses e Florentines nello stesso senso la nozione di cittadino caratterizza spesso i suoi abitanti Antonio Iacobo Cidadanos de Venezia ad esempio la visione dei comuni italiani si mescola a metà del quindicesimo secolo con il fascino umanista gli sguardi non saranno più solamente descrittivi bensì più critici e ragionati come si percepisce dalla penna attenta del cronista castigliano Alfonso de Palencia l'umanesimo che condivide e assume durante il suo soggiorno a Roma a Firenze tra il 1450 e il 53 lo fa essere attento sia agli argomenti politici che diffonderà in Castiglia sia accogliere il funzionamento delle ammirate città comunali l'identificazione con gli intellettuali umanisti è talmente diretta che nonostante parli di terre e società italiane viste di persona il suo parere coincide con le opinioni espresse allo stesso tempo da altri umanisti Palencia cerca di mantenere questi vincoli durante gli anni sessanta del secolo riceve lettere di personaggi come donato a ciaiuoli che lo mantengono informato sullo sviluppo di Firenze infatti gli scritti di Palencia di taglio storico in quanto cronista ma di contenuto politico visto il suo coinvolgimento nei fatti comportano sempre la lode per la capitale toscana che gli permette di giocare così la lingua latina per lodare la nobilissima urbis florenzie inter florentes orbi civitatis florentissime elogia la figura di Cosimo de medici e loda la politeia fiorentina perché in questa risalta sempre lo spirito civico della signoria di Firenze motivo per il quale la libertas fiorentina è l'unica libertà di cui Palencia parla favorevolmente l'autore non ha dubbi riguardo il fatto che Firenze sia la città migliore e dotata in abbondanza della virtù umana tipica dei regimi politici frequenti nella ragione ragione per la quale può imporsi con successo a nemici che si affidano esclusivamente al vigore delle armi Palencia oltre a riflettere questo parere in diverse allusioni nella gesta ispaniense intercala nel sesto capitolo del trentaduesimo libro della quarta decade un'estesa digressione dedicata a defragore belli in etruria che gli permette di opinare riguardo agli italiani al regime comunale e alle diverse signorie è quindi la prima descrizione critica che la storiografia ispanica fa delle società comunali italiane secondo Palencia il regime politico comunale ha garantito la transacta qui es italorum anche se il cratere recordia furor ad que milla contenziosa ingeniorum sublimitas propensior est aspetto visto positivamente per la straordinaria capacità di governo che li contraddistingue praes eferens aptitudinem imperandim singularem questa però si può vedere contrastata dalle stesse tensioni di modo che la capacità di governo supra imperi sedes misera servitute conculcetur il cronista critica ai romani perché vivono molto ancorati alle glorie passate preoccupati del fatto di giungere a tempestate nomine tanto appellatorum cosa che gli fa pretendere in alicchio ripetere imperium benemerite antiquati conscriptum quod cumque irritat urmens romanorum adversus potentian convenarum aspetto da tenere presente in un contesto in cui la condizione di cittadinanza genera gravi tensioni favorendo controversia inter falsos cives et convenas occupatores da qui si arriva ad una paralisi di iniziative gesti di ostentazione sociale ed imposizione dei potenti il riferimento all'impero romano è altrettanto valido per gli obiettivi dei veneziani tumet quoque nimirum senatus venetorum romani imperi vestigium secutus in hoc saltem ut ascensum sublimioris domini current il cronista castigliano crede che la potenza veneziana si stabilì novecento anni prima attraverso una scelta militare diversa da quella dei romani perché ipsi veneti milizie conduzionem longe aliter quam romani acquisire dun pericola esercitazione bellica externis hominibus committant cosa che invece gli imponeva si bivero ex mercatura opes multas diligente acquerant ad aldendum usque acque exercitum suffre turas applicando così alla venezia storica un problema quasi contemporaneo alla maggior parte delle città comunali interpreta che liberandosi dalle responsabilità dell'esercito e pensando principalmente al commercio si è ottenuto un governo giudizioso e libero da conflitti di fazioni domi auto moderatius questusque veneti magistrasque romani repubblicam administrasse evidentur forteque mercature intenti et bellicorum discriminum ipsi quodam modo exertes ferocem civilem evitend facticos acque a emulazione nunquan inficiantur il comportamento interno dei governanti veneziani è altamente lodevoli convinti che il rispetto e la pace interna siano la base della potenza oba onorazionem nomini culticque concessam la critica al governo veneziano si centra sulla superbia dei governanti che è un vizio sorto dallo stesso esercizio del potere ma che può colpire il popolo affetti dalla stessa superbia i governanti di Firenze si mostrano troppo insolenti provocando un malessere che finirà per obbligarli a permettere l'accesso al potere del popolo emergente così quindi questo comportamento della cerchia dirigente ha favorito la fluttuazione degli affari pubblici dei fiorentini ed il fatto che la città da Fiorente venisse sfinita Palencia valuta in questo modo la crisi di Firenze e conclude che la città è stata salvata da due cose la fortuna e Cosimo dei Medici Palencia continua spiegando che la potenza di Firenze ha condizionato l'evoluzione della Toscana Pisa ormai non conta più completamente annichilita dal vigore fiorentino che ha imposto la dispersione della sua gente rispetto ad altre repubbliche toscane come Siena e Lucca Palencia non nasconde l'aggressività di Firenze che ha dichiarato la guerra ai Lacessiti Lucenses per privarli di gran parte dei loro territori Lucca tenues depressasque a tirannis vires vive sotto il timore di Firenze che continet in timore semper vigilibus spettatori busque munitam Siena sopravvive grazie all'aiuto che offre per la protezione degli interessi fiorentini tra il vicinato dei Toscani a sud la gente di Perugia risalta per la sua arroganza e per la sua condizione armis altissima come ben sanno etruscos umbrosque aspetto che metterebbe in grave pericolo i vicini del Transimeno se non fosse per gli ordini del Papa perché nec possunt Perusini pra edizioni secclesiastiche proximitate ita calcitrare tuto pede ab stimulo dominanti scleri secondo Palencia la superbia dei Perugini gli fa sopportare in malo modo sia la subordinazione al Papa che il vicinato con i Fiorentini La tensione tra la chiesa e la città si riprende anche a Bologna dominata da un lato dai Chierici ma dall'altro con dei cittadini Pontificibus Romanis Parum Parent Le forti divisioni in fazione di Bologna sono colte dal coningista castigliano perché riconosce che i bolognesi sono omnes mitissimi con tutte le città vicine ma invece sevissimi interse in vicem emulantur usque ad alteris faccionis exidium Le divisioni interne sono talmente forti anche a Genova che la città deve sottomettersi ad un principe straniero domi in vicem facciosa emulazione perculsi externum proncipem sibimalunt preferre quam convince abber ed ucem L'orgoglio e la prepotenza di Genova non sono un ostacolo perché accetti un governante forestiero piuttosto che uno della stessa città Genua ups potens atque superba genuflectit libentius externo imperatori quam velit ipsa suo magistrato florere secondo Palencia è la stessa vocazione commerciale predominante nella città a facilitare questa disposizione a capirsi meglio con i forestieri che tra i genovesi stessi propter propter nam quandiscunt tollerare multorum insolentias gentium qui domi ob innatam superbia convivere nation infatti l'aspettativa commerciale è sempre azzeccata come si constata sapendo compensare la perdita dei mercati orientali come conseguenza del pericolo turco sostituendoli con quelli del Mediterraneo orientale Valencia continua a dimostrare la sua conoscenza dell'Italia menzionando la potenza del duca del Milano a nord e del re di Napoli che in questi momenti è Ferrante questi è succeduto sul trono a suo padre il re d'Aragon Alfonso il Magnanimo l'umanista sovrano aragonese che dal 1432 fino alla sua morte nel 1455 cammina solamente su terre italiane riaffermato dal 1442 nel suo regno napoletano conquistato e sforzandosi per essere ammesso tra i signori italiani è chiaro che Valencia non può trascurarlo quando raccoglie la sfida di scrivere le geste a ispanienzia le relazioni stabilite con le società comunali settentrionali fanno sì che Valencia narrandole esponga l'ascesa di Francesco Sforza che da alleato dei fiorentini impedisce che Alfonso possa aspirare nel 1447 a raccogliere l'eredità di Filippo Maria Visconti continuando in seguito a valutare le relazioni del nuovo signore milanese con i veneziani e l'autorità che impone a Firenze dove può contare sull'aiuto di Cosimo dei Medici fatto che gli permette di reiterarli l'elogio l'autore Castigliano fa una dimostrazione di conoscenza dell'Italia evidenziata di prima mano dai complementi geografici che aggiunge e della parzialità con la quale entra soprattutto all'interno di Firenze dove si mostra disgustato per la crisi delle città contrariato per il comportamento dell'elite locale e fermo sostenitore di Cosimo dei Medici l'analisi del cronista Castigliano permette di apprezzare le forti divisioni interne delle società urbane la precarietà degli equilibri di governo e il teso vicinato reciproco in questo senso quando più avanti narra i problemi dei veneziani nel Mediterraneo orientale dopo la caduta di Rodi in mano ai turchi si mette in rilievo la tensione tra fiorentini e veneziani i rimproveri delle altre città verso il comportamento di questi ultimi e la convinzione che in amme esperienze ha aperte ed oquerant nunquam conduliturus Italia principis Iacturis Veneti Senato Usquedum Extinctum Nomen Cundizione Veneta Esset le repubbliche italiane quindi si molestano reciprocamente per il conflitto dei rispettivi interessi Valencia scrive partendo dall'ammirazione che prova per le città italiane soprattutto per Firenze luogo luogo che suppriava a qualche parte del mondo infertilidad masone ricchesas ed edificios compostura virtudes poderio gravedad e nentodos otros bienes asside fortuna come dell'animo questa ammirazione non solo giustifica che le idee di governo vengano proposte nella penisola iberica ma anche che quest'ultima venga vista secondo criteri italiani la descrizione che gli fa di Barcellona adotta un chiaro parallelismo con la città toscana l'attrazione che prova in Spagna per Siviglia deriva dal fatto che la capitale del Guadalchivir è in parte simile a quella dell'Arno per le dimensioni e per il vigore sociale ed economico e questo spiega che chi vi applichi chiavi interpretative italiane per questa ragione descrive Siviglia con termini umanistici appresi da altri autori come la descrizione che Bruni applica a Firenze durante gli ultimi decenni del quindicesimo secolo le notizie dell'Italia settentrionale suscitano maggior interesse il cronista Hernando de Pulgar dedica un capitolo intero nella sua cronaca dei re cattolici alla congiura dei pazzi che a Firenze costa la vita a Piero dei Medici nel 1478 accusa il papa Sisto IV di esserne il mandante con suo nipote il conte di Imola che bramerebbe addirittura la città entrambi secondo quanto aggiunge il racconto si approfittano interessatamente della divisione della città in due fazioni i medici governanti e di pazzi e si servono della complicità dell'arcivescovo di Pisa che avrebbe concordato con questi l'assassinio dei fratelli medici durante la messa la narrazione situa la morte di Piero dei medici nella piazza assassinato direttamente da Francesco Pazzi mentre Lorenzo che si trova in chiesa risulta soltanto ferito il popolo per la propria indignazione uccide l'assassino l'arcivescovo pisano e tutti i membri della fazione che non possono fuggire dalla città Ernando de Pulgar continua narrando che questo porta alla guerra in tutta Italia con il papa e il re di Napoli da una parte e il duque di Milano con la comunità d'Estevenessia e Florencia dall'altra significativamente tutti i riferimenti al governo di queste città le menzionano come comunità continuando a narrare che come conseguenza di questi fatti di tutta la terra dell'Italia si posa in armas e si partiva in partes intende chiaramente un'Italia di cavalieri ed un'altra di comunità urbane perché alla fine alcune comunità di caballeros aiutaron con il papa e altre si aiutarono con il re Don Fernando di Napoli il quale in favore della comunità di Florencia fisoguerra al papa e alla comunità di Venezia che erano di una liga oltre a questo episodio Ernando del Pulgar si mostra molto attento alla scosa che in este tempo pesarono nella terra d'Italia descrive il malessere di tutti i signori e comuni d'Italia verso Venezia che non viene aiutata contro i turchi perché ha bisogno di abarcar quella sua cruda tirania e antigua soberbia trascinata da mire espansionistiche per la quale si è avventata su Ferrara in realtà così tanta attenzione dimostra che i destini dell'Italia e del monarca al quale scrive la cronaca si stanno avvicinando Ferdinando V di Castiglia secondo d'Aragona e secondo di Sicilia si mostra molto attento alle sorti del regno di Napoli retto fino al 1494 da suo cugino Ferrante questa preoccupazione viene sufficientemente rispieccata quando il cronista racconta le ambasciate con il papa la campagna di Carlo VIII in Francia in Italia a partire dal 1494 è raccontata dettagliatamente e con attenzione precisando come entrò por Italia con su gran poder il duque de Milan le fue favorable il dio lugar por su tierra la signorias de Genova e Florencia Pisa e Luca e Sena todas se umiliaron e dieron lugar che passasse e mantenimos por su dinero e passò por todas esta signoria e assercandosi a Roma e il papa fue muy pesante e temeroso e suida il dettaglio dei fatti e degli accordi concorda che la monarchia ispanica entra direttamente in scena di sicuro si schiera dalla parte dell'imperatore del papa e del duca di Milano nella lega santa che nel 1495 porta alla battaglia di Fornovo ben descritta dal cronista castigliano che vi include un poema di Martín Calvero Pulgar descrive anche lo sbarco avvenuto lo stesso anno delle truppe di Gonzalo Fernandez de Cordoba e il gran capitán in Italia entrando così nel XVI secolo con la narrazione dell'incorporazione dell'Italia meridionale e l'implicazione nell'insieme peninsulare il coinvolgimento con il monarca quindi ha fatto sì che Hernando del Pulgar accentui la sua attenzione verso le vicende italiane nel regidigere la cronica di monarchi che in realtà stanno proiettando i loro interessi dalla penisola iberica su quella italica in modo simile nel XVI secolo quando Ieronimo Zurita pretende di riunire la storia della corona d'Aragona si trova con una maggiore e più intensa relazione di episodi comuni tra le due rive del Mediterraneo occidentale è comprensibile quindi che l'Italia comunale sia molto presente nell'opera dello storico principale del XVI secolo nella penisola iberica ciò nonostante la società comunale non gli interessa in quanto tale ma vi si addentra per precisare il contesto dei fatti militari diplomatici e commerciali in cui intervengono i sovrani della corona di Aragona con questa motivazione l'autore dei venti libri degli Anales della corona di Aragon penetra nel tessuto comunale per cominciare nei primi trent'anni del XIV secolo a partire dal fatto che nel 1297 Bonifacio VIII concede a Giacomo II i diritti reali sulla Corsica e la Sardegna questo monarca avvia un'intensa attività per la appropriazione delle basi pisane sull'isola Sarda attività protratta fino a poter organizzare la campagna di conquista del 1324 le manovre del sovrano catalano aragonese incoincidono cronologicamente con uno scenario molto agitato in Toscana e in Lombardia dove si mescolano la venuta dell'imperatore Enrico VII nel 1311 lo scontro delle città nelle rispettive leghe e l'intervento al comando degli eserciti papali del catalano Ramon de Cardona che viene sconfitto dai milanesi nel 1324 e che passato l'anno successivo al servizio dei fiorentini viene sconfitto dai lucchesi nonostante si fosse adattato all'ambiente italiano e di conseguenza fosse muy adoptado lo sdiscurso si tratta di quella nazione il cronista segue queste trame mescolandole ritenendoli così propria da attribuirle a Giacomo II che mostra mentre si rivolge al Papa por medio del capitano Napoleone para che se puises alguna tregua entre Castruzio da Lucca e il comune di Florencia e su parzialità perché mas liberamente puidesse comprender la guerra contro los pisanos che non erano devotos delle iglesias e erano enemigos di su parzialità e los florentinos soccorrienses a las cosas della Lombardia e a Don Ramon de Cardona capitano general della iglesia La discrezione delle campagne di Sardegna che occupano il XIV secolo unite allo scontro permanente di Corsa e di Guerra contro Genova permette di osservare diversi accordi tra le città comunali specialmente nelle relazioni diplomatiche come l'avvicinamento tra Genova Pisa e Milano del 1340 contro la corona catalano-aragonese tutto ciò nel contesto di tensione permanente che il cronista attribuisce nel 1446 al re Alfonso il Magnannimo rispetto a quando a Borrescido era il nome del Signorio de los Reyes de Aragón y de la Nación Catalana en aquella Comunidad de Genova questo regno del Magnannimo è il secondo grande momento in cui Zurita si avvicina all'Italia comunale con uno sguardo molto attento alle alleanze e alle relazioni tra le città un terzo grande momento dell'attenzione di Zurita all'Italia è quello relativo al passaggio dal XV al XVI secolo per quanto riguarda la campagna italiana di Ferdinando II d'Aragona e V di Castiglia questo monarca riceve un'attenzione specifica attraverso una biografia ordinata in dieci libri e sottotitolata chiaramente della Sempresas i Ligas in Italia con una prima edizione conservata del 1580 l'opera si basa su una relazione cronologica dei fatti rilevanti del re a partire dal 1488 e dal secondo libro l'asse centrale si colloca in un'Italia in cui il monarca ha interessi sia in Sicilia che in Sardegna e in Corsica e sempre di più nel mondo signorile e comunale dal terzo libro la relazione dei fatti si addentra con naturalità nel XVI secolo attenta alle relazioni dei comuni e delle signorie italiane con i movimenti e le strategie dei contrapposti eserciti francese e spagnolo prospettiva che fa predominare quindi gli aspetti militari e politici durante queste fasi e sempre con l'obiettivo puntato sugli interessi dei monarchi aragonesi nella zona Zurita contribuisce a diversi avvicinamenti alla società comunale da una parte la menzione di ambasciatori e negoziatori non smette di essere un contributo ad una certa prosopografia dell'interno di città come Pisa Lucca e Genova nel 1308 Giacomo II riceve come rappresentanti della prima Paralochetto Caba la Sempresas di Sardegna gli ambasciatori Rainer Sampaz John Russo de Galandis e Der Diono Guascapa mentre questo stesso anno gli ambasciatori di Lucca sono Gatelli e Bernal Ronchi e si decide il servizio di Brancaleon de Oria e Bernabe de Oria su Chichio che era nel Capitano del Comune Pueblo di Genova allo stesso modo l'anno seguente negozieranno per Pisa Pellario Ciculo de Lanfrancis Ibo Ciamino de Galandis Juan Faselo Doctore Enleyes Banduccio Bancote Duancadì Ibelicio Alliata nel 1325 lo fanno Ceglio di Angelo e Gerardo di Castellanselmo queste menzioni penetrano facilmente all'interno degli equilibri urbani come avviene nella narrazione del Trattato di Pace stipulato nel 1291 tra le Corone d'Aragone e di Sicilia da una parte e il Comune di Genova dall'altra con questa scusa il coronista riflette su quali siano le basi del potere politico ed economico in questa città da una parte sottolinea la necessità di consegnare importanti ambiti di potere ai forestieri essendo governador di quella signoria Guillermo de Bruno della città di Astes il capitano nella mano forastero alla franchino del suo arigo della città di Bergamo che erano che teniam carico del governo dall'altra menziona lo smas di un'altra che erano Roberto di Spinola e Roberto di Conrado di Oria aggiungendo che l'imperatore Federico ed il re siciliano avevano beneficiato le case mass principales e antiguas tra le quali si citano Las de Flisco Spinolas Negros mostra un interno urbano assolutamente frazionato tra le diverse famiglie con le rispettive clientele la descrizione della società pisana che Zurita mette in bocca l'ambasciatore di Lucca Bovedi Mulacchio nel 1323 seppure si è interessata perché questo cerca di guadagnarsi il favore armato di Giacomo II contro i pisani è molto rivelatrice nel descrivere che Pisa è stava in grandi visioni e teniam tanta deferenza e desconfianza allos unos de los otros che de ninguno si osava confiar e per questa causa stavano desterrados fuori della città i più principali e migliori della signoria situazione che distruttura tutto il territorio visto che abbia a si mismo tierras e castigli nel contatto di Pisa che non obedece alla signoria e stava quella città tan pobre che non ottenia forma di potere non solamente offende però n'y resistia e per questa causa se ostendono muchos cada dia e cessava tutto il suo trato di mercanzia e stava riducito a gran miseria Zurita non dimentica di descrivere in che modo le posizioni delle differenti frazioni tra guelfi e ghibellini incrinano all'interno di tutte le città e favoriscono lo sviluppo di alleanze esterne in funzione di questi schieramenti in questo in questo stesso caso l'ambasciatore di lucca pretende di agitare una popolazione pisana principalmente ghibellina contro un governo locale guelfo coincidendo cronologicamente con il fatto che in Liguria l'os del bando ghibellino che ferono e cados di Genova tuvieron su gente e in Saona e continuarono il cerco di Genova si allaccia così alla descrizione di un vicinato molto teso tra le città la capacità di organizzare eserciti si impone dunque come punto d'attenzione come lo stesso ambasciatore lucchese critica nel 1323 i pisani nel valutare il loro esercito in mano a Ugulucino de Baschis che era mas di estro i sagazzi eloquente nel consejo che guerrero e contava su alcuna gente de caballo muy malarmada providenzales i franceses italianos la partecipazione dei sovani aragonesi in questo contesto dà motivo al cronista per esaminare le strategie sia di Giacomo II agli inizi del XIV secolo per ottenere nelle sue pretese sulla Sardegna la intelligensias con la signorias de Florencia e Luca e con la parte guelfa dell'Italia sia quelli di Re Alfonso il Magnanimo e Ferdinando il Cattolico nel XV secolo alla ricerca di una supremazia nell'area italiana nell'opera di Zurita le lotte del primo quarto del XIV secolo meritano una grande attenzione egli cerca di ripercorrere il confronto tra Guelfi e Ghibellini mostrando la divisione a Milano che descrive tiranizzada da Guido della Torre l'intervento dell'imperatore l'aggressività di Venezia verso il Ferrara nel 1309 e soprattutto la strutturazione e il funzionamento delle varie leghe e battaglie che interessano la Toscana il Piemonte e la Romagna soprattutto da quando nel 1311 abbiendosi rendito all'imperador Cremona e Vicentia e tenendoci a Cade a Bressa la Ciudades del Florenzia Bologna Sena Lucca e Pistoia e todas la Soltra della Toscana della parte Guelfa se confederaron e muy estrecha Liga pare in su defensa e contro l'imperador Le relazioni politiche diplomatiche e militari diventano l'obiettivo più importante per Zurita soprattutto riferendosi a lungo al XV secolo entrando dettagliatamente negli interventi diretti ma anche prendendo in considerazione tutto il contesto fatto che per esempio gli permette di raccontare nel 1433 il re Selo e nel contado de Sena per l'avvicinamento tra l'imperatore e il papa oppure come questo l'anno successivo entra per Pisa verso Firenze allontanandosi dalle convulsioni stese a Roma La proiezione del Magnanimo al nord soprattutto dopo essersi attestato a Napoli nel 1442 accentua lo sguardo di Zurita sullo spazio comunale L'offerta del Ducato di Milano ad Alfonso il Magnanimo nel 1447 grazie al testamento di Filippo Maria Visconti e l'incapacità del monarca ad imporsi nel momento in cui esso gli viene disputato fanno sì che Zurita si addentri in una città che descrive divisa tra Barsejos e Sforceses pur essendo per la maggior parte desiderosa di diventare una repubblica comunale generandosi così una confusione che coinvolge direttamente fiorentini veneziani e senesi il cronista agonese racconta i patti tra tutti questi e descrive l'intervento del Magnanimo in Toscana in un modo meno penoso di come fu in realtà se lo valutiamo per la scarsezza di effettività di una campagna che voleva intimidire il nord ma in che in realtà si interrompe con scarsi risultati a Piombino infatti Zurita è molto rigoroso nell'accertamento dei suoi contributi e dimostra una chiara capacità analitica ma allo stesso tempo si mostra cortigianamente parziale verso i suoi signori il re d'Aragona per questo motivo assume senza discussione che tutto il comportamento del Magnanimo è teso a trattare pazza universale d'Italia e cerca di stare in equilibrio per ponderare una prossimità con il Papa che concorderebbe con l'obiettivo della concordia universale stabilita per il beneficio della cristannidad sono quindi atteggiamenti come la tensione tra il duca Filippo Maree Visconti e il suo genero Francesco Sforza ciò che crea instabilità è che nonostante la buona volontà del re aragonese nunca faltaba occasione de guerra perpetua o en la Marca o en la Lombardia Zurita come cornista del re della corona d'Aragona ha capito che per parlare di questa doveva addentrarsi negli scenari aperti dai suoi sovrani come saranno nel XV secolo la Castiglia e la Navarra e come era già da prima l'Italia per questo motivo diviene l'autore ispanico che dedica maggiore attenzione alla storia comunale per farlo utilizza le cronache catalane che lo hanno preceduto e in questo senso manifesta una stima esplicita per Montaner e scrittor muy grave i verdadero stima che non gli impedisce di corraggiarlo quando legge cose non sufficientemente documentate proprio l'impegno nella documentazione è una caratteristica di Zurita da sottolineare con lo stesso atteggiamento critico ha incorporato gli scritti precedenti la qualcosa lo ha reso un buon conoscitore degli scritti italiani dell'epoca dei fatti fino agli umanisti e perciò cita autori come Francesco Petrarca Giovanni Villani o Giovanni Cusipignano in modo esplicito si attiene a questi autori non raccogliendo ciò che è straneo alla corona catalana orgonese come fa quando rispetto a Castruccio della Lucca dice che infatti proprio perché si tratta di un obiettivo indiretto il ritratto che offre dell'Italia comunale anche se si estende dalla fine del XIII secolo agli inizi del XVI non è un tracciato completo e approfondito ma piuttosto è costituito da una serie di pennellate della ricchezza e dell'intensità dei movimenti politici e sociali prodottisi in questo scenario nonostante ciò nel suo periodo il contributo di Geronimo Zurita diventa la principale visione fornita dalla penisola iberica sull'Italia comunale aggiungendo uno sforzo notevole per addentrarsi nello scenario frammentato di baroni e comuni Guelfi e Ghibellini che completa abbondantemente le riflessioni fatte nel XV secolo da Palencia oltre alle relazioni di Armando de Pulgar oltre a questi dati sui fatti concreti l'immagine dei comuni italiani resta nell'immaginario intellettuale spagnolo del XVI secolo sinonimo di governo autonomo in mano ai poteri locali senza interferenze superiori lo racconta Andrés de la Laguna Genova è signoria por si edigena a un dellos e lo teorizza Francisco de Vitoria nel trattare il diritto naturale e quello internazionale persino quando Hernán Cortés manda lettere all'imperatore Carlo informandolo sulle sue scoperte in Messico per parlare del sistema di governo vigente in una Cidad Grande que tenían nello Yucatan ritiene che la migliore immagine sia il paragone con i comuni italiani la orden che hasta ahora si alcasando che la gente della tiene a governarse e casi come la Signoria di Venezia i Genova o Pisa por que no hay señor general de todos ciò nonostante l'alterazione dei contenuti politici e dei modelli sociali nel XVI secolo implica anche una modifica nei referenti della memoria storica l'immagine del passato comunale nella penisola iberica ne risulterà chiaramente condizionata parte terza allontanamento e silenzio del passato comunale italiano XVII-XX secolo il grande contributo delle cronache è raccolto da Juan de Mariana che poco prima della fine del XVI secolo nel 1592 pubblica la Historia dei Rebus Espagne stampate in modo completo nel 1601 dando luogo alla Historia General de España la più conosciuta e diffusa in Europa per un paio di secoli Mariana include in quest'opera un capitolo specificamente intitolato della Guerra de Florencia anche se inizia scusandosi per l'introduzione di un formento della storia d'Italia in quella di Spagna non se fuera de proposito come io pienso declarare in breve la scausa sia il successo della Guerra de Florencia che per il mismo tiempio si imprendi in Italia l'episodio viene giustificato perché riguarda il magnanimo e per la conseguenza che gli causa Mariana spiega in questo capitolo che la donazione testamentare del Ducato milanese al re della Corona d'Aragona nel 1447 la successiva e poco efficace invasione della Toscana dal regno napoletano e il conseguimento definitivo di Milano da parte di Francisco e Sforzia sepade dopo sedio una nuova linea dei principes e causa di futuri contrasti anche in Francia con Italia e con ambas Spagna e si revolverono con guerras che duraron hasta a nostro tempo la contestualizzazione della politica di Alfonso il magnanimo fa aumentare l'attenzione di Mariana sull'Italia comunale basandosi sulle strategie leghe guerre e accordi di pace in particolar modo tra il Ducato di Milano la città di Firenze e la signoria di Venezia allo stesso tempo non tralascia di riportare la posizione del papato da un lato e dall'altro da notizia dei primi accordi e interventi da Milano con Renato D'Angio e con il futuro Luigi XI alla fine torna allo stesso scenario geografico per trattare la campagna francese spagnola in Italia agli inizi del XVI secolo la lode delle proprie glorie passate orienta Francisco de Moncada Francesc de Moncada nel dedicare verso il 1620 un libro all'Expedición de los Catalanes y Aragonenses contra Turcas y Griegos con cui si identifica abbastanza chiaramente da arrivare a parlare in più di un'occasione delle truppe al Mugavare come de los Nuestros inserisce punti di vista di cronisti greci nonostante segue soprattutto Montanera per raccontare l'insediamento degli Almogavare in Grecia fatto che gli permette di riprendere le menzioni sui contatti con i personaggi procedenti dalla società comunale italiana o la tensione con Genova l'assenza di un'innovatrice e specifica analisi dell'Italia è condivisa dalla storiografia spagnola del XVII secolo i comuni italiani appaiono limitati in riferimento agli episodi politici militari soprattutto nei regni di Alfonso il Magnanimo e di Ferdinando il Cattolico o scompaiono completamente come accade nell'opera di Francisco Diago è un'evoluzione coerente la conclusione del conflitto dei comuni negli anni XX del XVI secolo a favore di una monarchia che modella il movimento municipale secondo il suo interesse annuncia già l'imposizione di un nuovo modello più centralizzato della figura del sovrano la dottrina politica rimanda ad un potere concentrato non nelle istituzioni municipali ma nel monarca nel contesto di un movimento verso definizioni assolutiste sia pratiche che teoriche sebbene debba coniugare degli assi argomentali ancorati in gran parte del medioevo corporativista a partire da questa base l'alternativa costituzionalista difesa dai giuristi e dalla borghesia in Catalogna nel XVI e XVII secolo rivendica il riconoscimento della sovranità popolare per poter condividere la nozione sovrana con il re o per avere capacità per sceglierlo ma non per esercitare un pieno ed autonomo potere municipale nonostante invochi una continuità con i secoli medievali ne è una conseguenza la perdita di protagonismo della corona d'Aragona nell'ambito ispanico essa è stata definita come una periferizzazione e contribuisce e rifletta allo stesso tempo alla perdita di interesse delle vecchie proposte di tipo mediterraneo includendovi il miraggio verso gli antichi comuni italiani alla fine del XVI secolo membri intraprendenti della borghesia catalana guardano il passato medievale per trovarvi il vigore commerciale che adesso si dovrebbe riprendere come motore del paese le città medievale italiane sono invocate come uno dei modelli però non per il sistema di governo e di società ma per la forza commerciale un buon indicatore del vigore economico della Catalogna medievale e soprattutto della sua capitale Barcellona è proprio la buona relazione commerciale mantenuta con città come Pisa e in Tonses una repubblica famosa come si indica in un XVIII secolo già toccato dall'impulso riformatore dell'illuminismo il modello di riforma proposto in questo momento vuole coniugare strettamente la monarchia e il vigore degli stati borghesi in modo che questi godano di autonomia economica e di capacità per governare i destini locali attraverso il consenso il supporto e la collaborazione della monarchia questo modello è quello che Antoni de Capmani trova nella Barcellona medievale perché le sue élite borghesi dirigono i destini commerciali che innalzano il paese grazie allo stretto consenso con la corona reale la prosperità della città e del paese sarebbe impossibile se i re non la rubies comunicando muchas regalias e concedendo le singulares prerogativas con la convinzione che procurabano a los prinsipes a ser de sui ciudades alsilos de los sombras libres il centro poco constituyente del commercio e della sarte e non sarebbe stata possibile nemmeno questa prosperità se le redini non fossero state in mano all'élite locale così come accadeva nelle città italiane si conserva si conserva quindi il ricordo dei comuni nel riferirsi alla città di Pavia Florencia Sena e otras che por aquello tempo si adottarono a esta forma popolare del gobierno elettivo distribuito entro de las diferentes clases de sui ciudadanos e de los oficios mecanico il successo della Barcellona e di conseguenza della Catalogna medievale fu quello di combinare due modelli apparentemente opposti quello repubblicano dei comuni italiani e quello monarchico Barcellona poi gozò alcuna vez di tutta l'attività di una monarchia e della prudenza della repubblica e sus moradores erano soldati intrebidos al paso que cittadano austeros fu la combinazione perfetta che permise a Barcellona di superare le limitazioni iniziali e di situarsi a livello delle grandi città comunali e commerciali italiane por este medio legò Barcellona siendo una città mediana ad arricchirse entro del mediterraneo tanta influenzia autoridade in ombre come venezia e la misma genova secondo le conclusioni dello stesso antonio de capbani in seguito il romanticismo ed il positivismo possono condividere l'interesse per lo studio e la rimedicazione del passato vigoroso di capitali intraprendenti del XIX secolo insistendo su una potenza economica e sociale vitale per i destini del paese senza che relazione politica contraria ai monarchi le opere sulla capitale catalana ne costituiscono un esempio migliore come fa P.I. Arimon nel XIX secolo e in modo molto più documentato Carrera Scandi agli inizi del XX secolo da questa prospettiva né l'uno né l'altro devono cercare parallelismi con lo spirito comunale italiano è coerente quindi che in questi stessi momenti le principali e più territori ai monarchi dell'antica corona d'Aragona includano solamente semmai una semplice e breve menzione delle società comunali dell'Italia in riferimento ai conflitti con Pisa e soprattutto con Genova nel XIII e XIV secolo e nel secolo successivo riguardo alle relazioni stabilite da Alfonso il Magnanimo e da Ferdinando il Cattolico è la stessa linea che si addentra nel XX secolo alla ricerca delle glorie del proprio paese le investigazioni rigorose arrivano solamente per caso all'Italia comunale così Antoni Rubio Illuc nella sua rigorosa investigazione sulla presenza catalana nell'Oriente bizantino coglie da questa prospettiva la presenza di popolazione di origine italiana cosa che gli permette di apportare dati interessanti soprattutto rispetto alle società di Genova Venezia e Firenze può riflettere relazioni commerciali cessioni demografiche e addirittura la costituzione di lignaggi rilevanti medici che godono di incarichi nei ducati almogavari e vi si insediano fino ad ellenizzare il cognome approfondendo in questa direzione la relativa documentazione pubblicata accuratamente procede come soprattutto da diversi archivi italiani e dall'archivio della corona d'Aragona di Barcellona contribuisce a lasciare aperti nuovi spiragli per la ricerca lo stesso Rubio Illuc ne raccoglierà la documentazione sulla cultura nella Catalogna basso medievale documenti che riflettono il rapporto con le città italiane e addirittura la relazione culturale tra i signori l'erede della corona d'Aragona nel terzultimo decennio del XIV secolo è in corrispondenza con i signori di città come Milano o Verona ai quali chiede per esempio dei libri il fatto di non includere il passato delle città italiane tra i riferimenti storiografici spagnoli ha a che vedere quindi con l'allontanamento della civiltà comunale dai referenti ideologici sarà quindi necessario attendere un rinnovo degli scenari in modo che il predominio della ricerca storica imponga nuove vie di approccio al tema sotto una prospettiva non relazionata tanto con l'ammirazione ideologica bensì con la ricerca storica parte quarta vie di approccio storiografico dal ventesimo al ventunesimo secolo a partire dagli anni trenta del ventesimo secolo Jean Vicence Vives oltre a raccontare le relazioni diplomatiche dei Trastamara con l'Italia settentrionale introduce tra le norme di interpretazione della società che in Catalogna avanza verso la guerra civile il paragone con la società comunale italiana descreve la borghesia di Barcellona desiderosa di governare il paese come quella italiana questo spiega anche che il consiglio della Catalogna destituendo il monarca nel 1462 conduca il paese non a governarsi senza re ma a sceglierne uno alternativo operazione che si ripeterà altre due volte perché si cerca un monarca limitato alle funzioni militari così come avviene nelle città italiane volevano tenere le redini di un governo e limitare il monarca delle funzioni minime affinché fosse un condotero militare e cap della cosa pubblica è comunque un mero approccio comparativo che non implica di addentrarsi nello studio della società comunale italiana ad ogni modo la prossimità che denota si percepisce anche in altre opere che negli anni 60 e 70 del ventesimo secolo innovano negli studi sull'origine dello sviluppo municipale nella penisola iberica la pretesa se si continua con rigore implica un'altra sfida restabilire la provenienza e l'ascendenza dei gruppi sociali dirigenti e di conseguenza considerare la relazione tra questi e i compiti emblematici nella crescita urbana come il commercio e il credito nell'affrontare questi temi il rinnovamento storiografico contemporaneo si è fissato anche sugli studi paralleli effettuati nell'Italia comunale le ricerche effettuate in America Latina la pubblicazione delle quali produce sempre un notevole effetto in Spagna apportano delle preoccupazioni simile sebbene siano basate sul medioevo ispanico e proprio dal medievalismo radicato in Argentina grazie al lavoro di Sanchez Albornoz sorge l'unica autrice in lingua castigliana che tra le sue linee di investigazione ha incluso in un determinato momento un'attenzione specifica alle società comunali italiani Nilda Guglielmi l'autrice interessandosi alla città medievale trova nel comune italiano il modello sia dell'entità politica che del complesso urbanistico approfondisce in prospettive innovative partendo dallo stesso senso della città la funzione di fortalesa e bellezza assunta dall'urbanesimo diventa uno specchio della società con le sue espressioni e simbologie cerimoniali pubbliche e con le sue fratture perciò si interessa come le tensioni sociali scoppiano a Firenze e ancor di più alle vie di consolidamento della città in questo senso approfondisce la funzione della cultura della lingua della letteratura e la stessa presenza nel libro tra i borghesi cercando così le pratiche di prestigio e di coesione sia della nozione cittadina che dell'elite urbane l'analisi del discorso politico urbano nel suo contenuto e nelle sue forme si allaccia allo studio della formazione della gioventù borghese fiorentina destinata ormai non più a commerciare bensì ad assumere compiti di governo infatti la letteratura e i suoi autori svolgono un ruolo fondamentale nell'elaborazione e nella propagazione dei discorsi di propaganda politica e civica cultura lingua educazione e formazione svolgono un ruolo chiave nella creazione e nel mantenimento dell'identità comunale così come nel superamento del limite della specificità comunale rimandando alla nozione di appartenenza all'italia sullo stile quattrocentesco del locus amenus nel quale ha molta importanza il valore propagandistico e didattico assunto dal libro questa affascinante via di studio delle società comunali italiane ha avuto seguaci nella stessa argentina come Silvia Magnavacca che si è addentrata nella vita comunale attraverso lo studio dei trattati isti nel quindicesimo secolo come nel caso di Leon Battista Alberti nonostante l'attenzione per via aperte come questa la storiografia spagnola è rimasta attenta a obiettivi propri alcuni di questi hanno implicato allo stesso tempo un avvicinamento dell'interno del comune italiano è il caso dello studio dell'elevata presenza di militari catalani nell'Italia comunale degli inizi del quattordicesimo secolo che nella sua investigazione esige di essere completato con delle cognizioni della società comunale che richiede accoglio combatte queste truppe si apre così a una specifica prospettiva di studio della società comunale come ha dimostrato Maria Teresa Ferrer approfondendo una via iniziata nel 1965 riguardo a Ferrara dopo aver notato che tra il 1307 e il 1317 a Ferrara agirono molta gente catalani non solo segue l'attività mercenaria catalana eccedente dalle campagne siciliane ma si addentra nel frammentato scenario italiano dove si mescolano le strategie tra Guelfi e Ghibellini le interferenze tra questi gruppi e le spaccature dentro ad ogni città la crepa delle tensioni interne e l'intensità dell'ostilità tra città vicine tutto ciò in una cornice dove entrano in gioco aspirazioni espansionistiche di Catasti come quello d'Este e l'interrelazione in uno spazio che si estende tra la Toscana la Romagna il Piemonte il Veneto e la Liguria Maria Teresa Ferrer si abitua così allo studio degli annali e delle cronache italiane che combina con le fonti ispaniche la studiosa cerca di dare una visione comprensiva più globale e di concentrarsi sulla ricostruzione biografica di uno dei più importanti cavalieri catalani in Italia Ramon de Cardona immerso in un'evoluzione personale che mostra sia il carattere mercenario di questa collaborazione sia la prossimità delle trame italiane a partire dagli interessi catalano-aragonesi questo dipende dal fatto che lo stesso protagonista è stato in due momenti della sua vita capitano generale dell'esercito guelfo e governatore di Sardegna e in entrambi i casi è stato designato su indicazione del re aragonese che nel primo caso l'ha ceduto al papato per dirigere il suo esercito e nel secondo l'ha designato per governare il dominio sardo a partire dal 1330 la prospettiva seppur incentrata sui personaggi e sul contesto facilitato da questo interscambio di dirigenti militari continua a gettare luce su altri ambiti delle società comunali la corona d'aragone e le repubbliche italiane condividono le rive del mediterraneo occidentale dove cercheranno di sviluppare le risorse commerciali ed accordare le relazioni diplomatiche sin dagli inizi si apre così una prospettiva di avvicinamento alla realtà comunale a partire dagli accordi stipulati con conti come quello di Barcellona già nel XII secolo in un modo simile lo studio delle esportazioni di grano dalla penisola iberica a quella italica diviene un modo per penetrare all'interno della politica della società dei comuni italiani è soprattutto durante il passaggio dal XIII al XIV secolo che si mescolano tutte le trame nel Mediterraneo occidentale Antoni Riera nonostante parte dalla prospettiva della corona d'aragona deve addentrarsi cercandovi l'interpretazione globale nella complessa realtà comunale del momento facendo combaciare le relazioni diplomatiche e commerciali con le motivazioni che pulsano nelle città disgregate dalle fratture tra Guelfi e Ghibellini dalle tensioni sociali e dai problemi di vicinato tra le città indagare sulle relazioni reciproche diviene quindi una via di approccio alle società comunali così come accade dalla corona ad Aragona con Pisa e con Genova con questa si è potuta precisare la dinamica di aumento delle tensioni e far approfondimenti nel conflitto del XIV secolo affetto dalla problematica sarda l'importanza del commercio nel consolidamento economico e sociale della corona ad Aragona ha dato impulso a diverse ricerche molte delle quali seppur più superficialmente apportano dati su delle società comunali con le quali si fanno affare con normalità i numerosi lavori pubblicati in parte si appoggiano reciprocamente includendovi importanti contributi di autori stranieri ed oltre all'oggetto diretto della ricerca forniscono elementi sulla relazione tra l'economia e la composizione sociale delle società comunali o addirittura sulle formule per risolvere i conflitti commerciali internazionali in questo contesto la partecipazione di personaggi ispanici alla politica e alla cultura dell'Italia medievale oltre all'importante presenza di commercianti ed interessi catalano-aragonesi ha permesso di investigare sulle rappresentanze permanenti come il consolato dei catalani a Pisa o sul comportamento dei mercanti a Roma oltre ad abituare gli storici spagnoli ad utilizzare la documentazione italiana testimone dell'interscambio commerciale ed umano nel periodo medievale infatti è stato molto vantaggioso lo studio del movimento inverso per l'impegno nello studiare l'arrivo e l'insediamento di stranieri interessati in gran parte alle materie prime che possono ottenere come nel caso degli schiavi nel XV secolo oltre all'attenzione ai genovesi danneggiati dalle guerre sarde si sono apportati importanti contributi attraverso lo studio della presenza di artigiani e soprattutto di commercianti nella penisola iberica così si sono potuti ricostruire i rapporti commerciali e le strategie diplomatiche professionali e finanziarie da parte di venoziani genovesi o fiorentini proprio la conoscenza dei meccanismi finanziari ed economici reciproci è migliorata molto grazie alle ultime ricerche mettendo in evidenza soprattutto la relazione con le città comunali toscane lo studio della mobilità tra entrambi i territori ha trovato un modello specifico con la presenza di studenti in Italia e soprattutto a Bologna non solo si ottengono dati sulla vita degli studenti nelle città italiane ma lo studio di determinati personaggi basso medievali permette di penetrare nelle città mostrandoli mentre camminano nelle vie italiane acquistano libri negoziano proprietà si indebitano trattano con notai fanno testamento mettono in pratica lasciati testamentari o partecipano addirittura a gravi scontri e sono coinvolti in gravi interventi del podestà e della giustizia a Bologna la quale propone i conflitti giurisdizionali e permette di dubitare dell'equinemità del sistema giudiziale come una grande finestra sulla società comunale si conoscono meglio attività e personaggi non solo bolognesi come il banchiere Gomez Zantis di Pistoria o il fiorentino Guccio Deagolantibus nel XIV secolo ma anche la relazione con agenti di società come gli Arsini o i Peruzzi in realtà la relazione stabilita tra le città italiane e quelle ispaniche condivideva un versante culturale molto intenso con numerose sfumature intendendo il commercio di contatti culturali come caras della misma moneda si è progredito molto nello studio delle radici dei contatti italiani dei giuristi e degli uomini di cultura che condividono l'elite sociale come quella di Valenza per questa ragione a partire da diverse ricerche effettuate da medievisti spagnoli sulla conoscenza la cultura l'insegnamento e la trasmissione del sapere si entra in contatto con la civiltà comunale l'importanza della ricezione del diritto romano ha giustificato una iniziale attenzione verso importanti giuristi come Bartolo da Sassoferrato e l'incidenza di rilevanti opere giuridiche lo studio del libro e la sua ripercussione sociale ha aperto nuove prospettive che permettono di indagare sull'influenza del libro e della cultura italiana e le loro conseguenze commerciali e sociali in modo diretto ed indiretto vengono messi in luce diversi aspetti del funzionamento della società comunale in questo modo lo studio delle provenienze nell'arrivo di opere e traduzioni permette di stabilire dei vincoli con accordi diplomatici riguardo ai comuni come ad esempio la presenza di Brunetto alla corte castigliana nel 1260 inviato dal comune fiorentino non è per caso che autori attenti alle biblioteche ispaniche si siano fissati anche sulle proposte di città ideali da parte di Eximenis e Sanchez del Revalo impostazioni che rimandano ad un'idealizzata evocazione comunale soprattutto quando si collegano ai contenuti umanistici del XV secolo proprio le ricerche recenti sull'idealizzazione della società urbana nella castiglia della fine del medioevo si realizzano attraverso paragoni con sforzi simili provenienti dall'Italia comunale in cui si finirà nel contesto rinascimentale con le proposte di fila rete infatti la relazione esistente giustifica una conoscenza reciproca motivo per il quale si è potuta assaggiare una nuova prospettiva nell'investigare sulla visione della penisola iberica nelle società comunali vale a dire come nel medioevo la cronachistica toscana parla dei regni ispanici in realtà esiste un flusso di interscambio di idee che permette addirittura di ripercorrere piste concrete come il pensiero di Ramon Lull la relazione di contatti e filiazioni trova una via specifica nell'arte si è investigato in maniera concreta sull'influenza dello stile italianizzante nell'arte gotica oltre ai successivi contatti rinascimentali ad ogni modo la ricerca è stata canalizzata più verso l'opera d'arte in sé che verso lo studio della società che l'ha resa possibile e ancora meno verso le relazioni inerente alle società comunali con cui sono stati contatti in fin dei conti forse non è necessario uno studio sulle relazioni reciproche ma basta semplicemente studiarne una parte tenendo conto delle ricerche simili effettuate dall'altra soprattutto viste le somiglianze contemporanee si è agito così nello studio della cultura e della mentalità dei mercanti catalani pur tenendo conto dei comuni italiani in un senso simile quando negli anni 80 del XX secolo in Catalogna si vuole focalizzare lo studio della città nei suoi legami con la regione di influenza si tiene conto della relazione tra l'urbe e i suoi dintorni nell'Italia comunale il contado specialmente a livello teorico di continuo riferimento gli studi più definitivi su questi aspetti tengono presenti le ricerche simili svolte in Italia valutando però gli aspetti specifici del fenomeno lo studio della formazione dello Stato ha anche permesso di trovare alcuni riferenti in Italia sia nella strutturazione del concetto pubblico sia nell'analisi del risveglio della fiscalità municipale sia nell'esercizio pratico della strutturazione giuridica proprio la somiglianza nel sistema della stima dei beni e del carico fiscale municipale ha propiziato paragoni molto interessanti riguardo a queste pratiche soprattutto nelle città toscane ed in quelle catalane il paragone bibliografico in realtà è stato utilizzato in numerose analisi della società urbana le opere di ricerca sulla solidarietà di gruppo nei comuni italiani sono presenti nelle investigazioni in Catalogna sui clan e la solidarietà familiare nei secoli XI e XII ed anche sulle fazioni nel basso medioevo così come la ricerca sulle società medievali ispaniche cercano il paragone con la realtà italiana dalla prospettiva della criminalità o della violenza in realtà il paragone si è andato estendendo ad un crescente numero di temi di ricerca includendo la strutturazione territoriale dove nello studio della Castiglia si è potuto riflettere sul perché il castello non svolga un ruolo importante nelle nuove terre castigliane essendo numericamente scarso si è paragonato con l'elevatissima quantità esistente in Toscana altre prospettive innovatrici come le nuove vie di studio del paesaggio urbano includono anche la conoscenza del tema nelle città italiane in realtà nello studio del mondo urbano si è mantenuto e persino accentuato l'inserimento di riferimenti ad autori italiani avviando i temi di ricerca sulla società urbana e l'evoluzione sociale includendo in queste le forme e gli atteggiamenti di fronte al mondo del lavoro come pure succede sui versanti più strettamente economici con la spinta commerciale o la strutturazione delle corporazioni in realtà ci sono ambiti dell'evoluzione municipale in cui il paragone è quasi obbligatorio come ad esempio nel trattare l'ideologia e le circostanze che pulsano dietro alle rivolte comunali castigliane è ben coerente quindi che aspetti messi in evidenza dalla storiografia per città come Firenze siano adottati come termine di paragone per studiare quelle spagnole nelle visioni complessive la conoscenza della realtà italiana è evidente in aspetti come il commercio nel Mediterraneo e ancora di più nell'affrontare l'evoluzione del mondo urbano medievale come notano con successo Marianne Sejo o in modo più esteso José Maria Monsalvo consiste in questi casi in un trattamento ponderato di alta divulgazione mentre in tutti i precedenti si tratta proprio di riferimenti indiretti o secondari molto importanti per realizzare la corretta interpretazione dei fatti ed avanzare verso comprensioni comuni ma che evidentemente non riflettono un'attenzione specifica alla ricerca sull'Italia comunale l'insieme può sembrare in parte paradossale all'intensa eco dell'Italia comunale nel primo periodo quello quasi contemporaneo ai fatti segue un lungo silenzio d'accordo con un momento in cui si cercano altri riferimenti politici e sociali per riprendere poi un contatto intenso nel contesto storiografico del XX secolo anche se questo fatto non favorisce l'apparizione di storici che lo adottino come contesto di studio proprio e principale questa realtà diversa da quella vissuta in altri paesi riflette un carattere storiografico specifico la Spagna del XIX secolo non ha vissuto l'interesse tedesco per ricercare le radici dei popoli germanici e la loro influenza nei paesi meridionali né la preoccupazione francese per competere nella proiezione culturale né ormai nel XX secolo le definizioni universaliste che poteva riindicare la storiografia sovietica o addirittura la ricerca di diverse radici di identificazione culturale evocate negli Stati Uniti tuttavia l'orientamento esterno della cultura spagnola se guardava a qualche paese era all'Italia verso la quale si orientano le prime iniziative di proiezione estera della cultura spagnola e di incentivazione della formazione esterna nel 1873 l'accademia spagnola de Bellas Artes canalizza le sovvenzioni di artisti a Roma dovuto al fatto che insieme a Parigi era il luogo di destinazione preferito dagli artisti poco dopo nel 1910 nel periodo di apertura e di incentivazione della formazione degli studenti all'estero tipica degli inizi del XX secolo il governo spagnolo crea a Roma la scuola della Junta di applicazione dei studios che sarà luogo all'istituto di storia e archeologia sono iniziative che si sommano alla continuità del collegio spagnolo fondato dal cardinale G. del Bornoz a Bologna nel 1364 con tutte le conseguenze dell'attrazione permanente di studenti in Italia malgrado questi stimoli gli incentivi istituzionali in Italia si concentrano molto nel campo dell'arte e dell'archeologia mentre la cultura spagnola del XIX secolo e degli inizi del XX è molto attento a quello che si fa in Francia e prova una forte attrazione principalmente nell'ambito della formazione storica giuridica e anche scientifica per l'università tedesca fatto che giustifica non solamente contatti ma anche importanti soggiorni nei centri germanici soprattutto però bisogna rifarsi ad una chiara introspezione nella ricerca storica la ricchezza di fonti documentari in molte zone della penisola iberica e di lunghi periodi in cui i governi hanno preferito limitare o controllare i rapporti con l'esterno hanno trovato terreno fertile in una tradizione di ricerca non solo interna ma addirittura molto vicina durante il XX secolo investigazioni storiche molto profonde si sono basate molto spesso su ambiti vicino in senso regionale o addirittura locale in questo senso la partecipazione della Spagna alle istituzioni dell'Unione Europea dal 1986 ha generato un effetto positivo non solo sulla riflessione del sistema universitario in modo globale ma anche soprattutto sull'incintivazione dei contatti esterni vengono generalizzati i programmi di interscambio di studenti e di ricercatori e si consolida persino il soggiorno all'estero come uno dei meriti dei giovani ricercatori non c'è da stupirsi quindi che sia durante l'ultimo decennio del XX secolo che nella bibliografia appaiano nuovi formati comparativi di realtà come le città castigliane e quelle tedesche o lo spazio rurale alto medievale castigliano ed inglese in questo contesto si è paragonato allo spazio rurale italiano e castigliano investigazione che deve evidenziare tra tutti i suoi contributi la stretta ed inseparabile divisione tra municipio e regione in entrambi gli ambiti confrontati la convinzione della prossimità degli oggetti di ricerca incentiva le iniziative di collaborazione a volte persino in modo ben evidente come i differenti colloqui ispano-italiani tra questi bisogna evidenziare quelli basati sulla presenza italiana in Andalusia tra il XIV e il XVII secolo celebrati a Siviglia con importanti contributi sulle relazioni e di contatti con le città italiane specialmente nell'ultimo secolo medievale sia da parte di autori italiani che spagnoli da un'altra prospettiva le linee di collaborazione vengono evidenziate anche in un altro colloquio specificamente basato sull'archeologia medievale in questo senso si deve delineare l'inserimento della prospettiva italiana in molti incontri di ricerca che avviano al ricercatore spagnolo la conoscenza del livello raggiunto dall'investigazione in uno scenario simile come nel caso dei comuni italiani comportamenti simili da parte italiana incentivano anche l'avvicinamento di storici e di conseguenza di punti di vista nella ricerca bisognerebbe anche aggiungere il fatto che gli specialisti italiani sono invitati a conferenze gli atti delle quali vengono diffuse dalla loro pubblicazione su mezzi ispanici o il fatto che vengano realizzate delle ricerche e pubblicazioni condivise tra autori di entrambe le penisole l'insieme quindi incentiva le vie di relazione e allo stesso tempo paragone superando altre difficoltà come ad esempio le inerzie commerciali inditte di distribuzione di libri tradizionalmente poco avezze ad importare in Spagna libri pubblicati in Italia come fanno con paesi francofoni e anglofoni le esperienze fatte le vie aperte in questa direzione permettono di valutare se questa esperienza diventi un'aggiunta più o meno interessante o se ancora meglio divenga una prospettiva scientifica in grado di arricchire l'analisi storica ponderando proprio questo inerente arricchimento già nel 1990 Paolino Iradiel recamava per studiare i consigli municipali un'analisi comparativa e in questo senso aggiungeva che a mio intender la perspettiva di storia comparada me leva massa sia Italia che sia o tra situazioni europeas parte quinta conclusione l'apparente paradosso del percorso tra il riflesso di un'intensa prossimità e l'attuale mancanza di investigazioni specifiche è comunque un frammento della stessa storia comune la prossimità garantisce un contatto un miscuglio di interessi e di conseguenza un riferimento costante durante un basso medioevo che sia per gli uni sia per gli altri ha un perno nel commercio attraverso il Mediterraneo occidentale e le sue conseguenze economiche politiche e sociali da questa conoscenza si può intendere nella penisola iberica la singolarità del governo comunale una singolarità che non vuol dire rarezza bensì plasmazione della sublimità contemporanea avvallata da tutti i versanti perché quando la città si impone come l'immagine della perfezione sociale secondo quanto avvalano la teologia il diritto la filosofia e la letteratura in Italia si evidenzia come queste idee si possono plasmare in una società ben tangibile la città italiana diventa lo specchio sociale del pensiero basso medievale radicato nel realismo aristotelico e nel diritto comune il potere municipale sia nelle formule della borghesia sviluppate nella corona d'Aragona sia nei comuni affermatisi nella corona di Castiglia appoggia sia la potenza raggiunta che quella desiderata attraverso giustificazioni di ogni tipo ed è da qui che si invoca l'Italia comunale come modello non si fa quindi partendo dalle conoscenze di una realtà in cui la nascita dei comuni viene collegata agli interessi della nobeltà e dove proprio l'affermazione del popolo aumenta il regime di podestà stabilito così come referente ideale il contenuto del modello non si esaurisce in sé ma si ricarica nel XV secolo quando l'umanesimo rinnova il senso civico della società italiana per questo motivo quando in Italia il movimento comunale non solo declina ma si può dare per concluso sotto formule più personalizzate continua ad essere un modello che illumina le proposte di una maggior partecipazione urbana nella penisola iberica con capacità per addentrarsi con vigore nel XVI secolo molto significativamente nei secoli moderni il trionfo di modelli di organizzazione più attenti a strutture superiori come quelli statali e di un concetto di plena potestas che può addirittura limitare le leggi municipali coincide in Spagna con l'allontanamento dal referente comunale italiano così vivo nei secoli precedenti si è potuto così facilitare il passaggio ad una relazione più incentrata sullo sguardo scientifico dell'analisi storica anche se la forte introspezione che ha predominato tra gli storici spagnoli del XIX e del XX secolo ha posto l'attenzione sulle proprie società i comuni italiani continuano ad essere presenti persino in modo crescente seppur sotto obiettivi focalizzati sulla penisola iberica anche se c'è un approfondimento nella conoscenza dei forti vincoli comuni soprattutto quelli economici ma anche quelli culturali diplomatici e politici resta aperto tutto un cammino comune da percorrere incentivato dall'attuale avvicinamento europeo delle vie di insegnamento e di ricerca universitaria ben attento a tastare il polso ad un passato in gran parte comune ed anche condiviso grazie a tutti i nostri